Benvenuti in Illimiti, la banca di nuovo paradigma fondata e guidata da Corrado Passera che ha l'obiettivo di scoprire e valorizzare il potenziale di imprese, persone e famiglie. Una banca completamente innovativa, nata senza legacy e fondata sulle tecnologie più avanzate per andare oltre i limiti dei sistemi tradizionali. Una banca specializzata nelle piccole e medie imprese e nei servizi digitali rivolti a imprese e famiglie. Un modello di business pensato non solo per fare utili ma anche per essere utili alla comunità di cui ci sentiamo profondamente parte. Siamo nati tre anni fa e oggi siamo oltre 700 Illimiters uniti da una profonda diversità. Arriviamo da 200 realtà, 20 settori e 20 paesi diversi. Illimiti è una banca completamente digitale, senza filiali. La nostra principale sede è nello storico Palazzo Porti di Milano che si basa su due principi, sostenibilità e inclusività. L'edificio ha subito una ristrutturazione completamente sostenibile grazie al riutilizzo dei materiali che compongono la struttura, primo fra tutti il vetro che garantisce un'estrema luminosità agli spazi interni. L'edificio è completamente plastic free, con degli ambienti open space per garantire inclusività e dinamicità agli spazi di lavoro. E anche grazie a questi spazi di lavoro che Illimiti è stata riconosciuta Great Place to Work in Italia per il terzo anno consecutivo e Best Workplace in Europa per il primo anno. Adesso scopriremo le attività di Illimiti attraverso la voce delle nostre persone. Illimiti si rivolge alle imprese italiane di piccole e medie dimensioni, prevalentemente industriali e con un fattore ad un anno superiore ai 30 milioni di euro. Spesso queste imprese si trovano in momenti di difficoltà, nelle fasi di stress e di conseguenza sono caratterizzati da una difficoltà di eccesso al credito. Proprio a queste imprese, performing o non performing, offriamo prodotti di factoring o soluzioni di credito, mirato e personalizzato. Con i colleghi affianchiamo le PMI quotidianamente per individuare il loro potenziale e le migliori modalità per farli crescere. Aiutiamo le aziende nei loro processi di risanamento e rilancio per creare valore positivo sia in termini di posti di lavoro che valore aggiunto al tessuto imprenditoriale. operiamo nella gestione dei crediti deteriorati corpore, assistiti da garanzia o senza garanzia, acquisendo i portafogli o finanziando l'acquisto da parte di terzi e gestendo direttamente i portafogli grazie alla nostra servicing unit, NEPRIX. Una gestione che avviene mediante la valorizzazione dei beni e delle garanzie sottostanti al credito in default. La divisione ha individuato nel settore energy un ulteriore ambito di specializzazione in virtù del contributo che il segmento offre alla conversione energetica in chiave green. Illimiti è anche entrato nel mercato dell'acquisto dei crediti fiscali come quelli Sisma Bonus ed Eco Bonus. È un ulteriore passo in avanti per supportare le imprese, tenendo però sempre in mente per ogni nostra attività l'impatto positivo in termini ambientali. Illimiti coniuga innovazione tecnologica con le migliori competenze. È la prima banca cloud native in Italia e il nostro team di information technology sviluppa ogni giorno soluzioni sempre all'avanguardia utilizzando metodologie innovative quali data e artificial intelligence per offrire ai clienti a tutti gli illimiters un'esperienza tecnologica di ultima generazione. IllimitiBank.com è la banca digitale del gruppo Illimiti, nata per semplificare la vita delle persone e delle famiglie attraverso una offerta bancaria completa, attraverso servizi innovativi e una user experience di ultima generazione. Siamo un gruppo unito, coeso e sinergico che lavora a stretto contatto tra marketing, design, prodotto, processi, ma sempre con un'unica intenzione, costruire alla banca il nuovo paradigma. NAPRIX è la società di servicing di Illimiti specializzata nella gestione di crediti di stress corporate. Ma cosa significa e come funziona in parole semplici? Illimiti acquista crediti non performing e unlikely to pay e NAPRIX in qualità di servicer si occupa di gestirli e valorizzarli, sino alla gestione degli immobili a garanzia di questi crediti. Fondiamo la nostra attività su un modello end-to-end, ad alto tasso tecnologico, affiancando all'innovazione, parte del nostro DNA, un team di persone specializzato che mette la propria passione al servizio di clienti e investitori. Il nostro elemento distintivo è la corte capacità di ascolto. Dialoghiamo con le imprese in difficoltà, con chiarezza e trasparenza e affianchiamo l'imprenditore per costruire insieme soluzioni win-win. Ci rivolgiamo a player italiani e internazionali interessati all'investimento nel settore dei crediti di stress corporate, ma anche a banche alla ricerca di partner specializzati per esternalizzare la gestione e la valorizzazione del credito. Illimiti è entusiasmo. Illimiti è collaborazione. Innovazione. Creatività. Illimiti è crescita. Illimiti è mettersi in gioco. Illimiti è la banca di nuova generazione.